I was never meant to fight on my own Jackpot Benvenuti in questo nuovo video, io sono TheConker94 E oggi siamo sullo speciale 5 iscritti Per di tutto volevo soltanto informarvi che nella realizzazione di questo video Mi si è corrotta la webcam, però il video è uscito lo stesso godibile nella realizzazione Quindi non vi dico niente, quindi vi lascio il video, buona visione Benvenuti in questo nuovo video, io sono TheConker94 E oggi siamo sullo speciale 5 iscritti Mi è venuto in mente di fare un videogame che ho visto su Steam Che è diventato un po' popolare perché è piaciuto anche a molti altri giocatori E molte altre persone, che è TimeClickers Io non so che cos'è, infatti ogni video che parto dico sempre non so che cos'è Però adesso andiamo a vedere un po' che cos'è Ok, e cosa devo fa... Ah, shoot, distratto, ok Ok Cos'è, devo, 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 devo cliccare Devo cliccare col mouse Dai, 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 dai Cos'è, 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 non l'ho sbagliato Ok, va bene, ha pianto Ah, sta, è anche a tempo No, ma dai, ma perché... Oh, no, ho sbagliato E' qui che si vedono la vera prologione di un vero player Vai, 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 vai Uh, no, il cuore no Vai, 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 vai Cos'è? No, no, dai Ma cos'è sta roba? Uh, 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 uh Broccato, obiettivo, no, dov'è, dov'è? No, no No, scusate, ma mi do potenziare un attimo Io mi potenzio Mi pega cazzo, io sparo qua Pallina, pallina Ma ci avrà una fine in questo gioco? Non lo so Ma tutti sti punti, ma, ma tutti sti punti li sto facendo io Perché sto sparando a casa? Cioè, io non lo so Mi soltiamo il posto Ah, 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 Dio, mio Mia, 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 mia Ah, io, mio, mio Oh, Dio Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì, sì Mamma mia, oh, pamma Pamma, signori, pamma Vai, vai, vai Mi prendo tutti questi furti Vai, vai, vai Mi sto facendo un macello Mamma mia Vai, ti butto giù, ti butto giù, ti butto giù Ti butto giù Mamma mia, oh, mamma mia, mamma mia Guardate la provagine Non ci credo È comparso così Mamma mia Vediamo cosa è questo Rocket Questa cosa Sto sbloccando una nuova cosa Ci pare le abilità Proviamo Proviamola, proviamola Ah, cioè io premo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Rivello 15, ammigo Non è ormai così forte Non lo so Abbiamo un po' di abilità Non si fa cambiare arma Non si fa cambiare arma qua Non si può cambiare arma Non si può cambiare arma Putto giù 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 Cioè io non ce la faccio Cioè, ragazzi io tra poco scoppio Io penso quanto spero di riuscissi Guarda Guarda Oh, modalità super No Abba Ma basta No Mamma mia Non ce la faccio più Sto morendo Dai Dai Su Dai Allo facciamo così Arriviamo A livello 16 Poi faccio pausa perché E' veramente E' pesante E' molto ok aspetta allora come si fa un attimo no dai non riesco a non riesco a fermarmi come si fa non è che si finisce dai dai destroyer magari non sto facendo niente è vero la cosa beh si, non so se fare l'abilità o fare qualcos'altro non lo so si c'è un'abilità dai facciamo cos'è uuu e sparare il doppio bene, bene, ho fatto bene via, vai, vai, vai e cosa faccio? come utilizzare le combo bene potrei potenziarmi un pochettino le abbiamo up eeeh corporale eeeh esterminetto eeeh mamma mia oh mamma mia oh basta sto fan i quei maceli eeeh 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 potenziali ancora? ah ho capito cosa sono eh devo rifarlo da camera eh certo oh sono arrivato qua e non riesco a prendere avanti eh neanche ce la faccio neanche forse ce la faccio no ci vedo basta dai adesso ce la devo fare ce la devo fare ce la devo fare dai devo buttare giù almeno questi dai 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 almeno questi dai 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 non ci credo no non riesco cioè è difficilissimo cioè devo mettere qualcos'altro perchè sennò qua uuuu grazie grazie mamma mia eh ma qua si sta a fare grandi cose allora visto che noi siamo qua potenziamo un po' do 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 allora potenziamo eeeh facciamo questo qua andiamo vai 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 dai 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 oh ci credo Allora aspetta, allora, signori, allora, adesso mi fermo qua perché è stata veramente dura, allora, come gioco non è, non è, è bello, cioè da, magari per scaricarsi un po', è fatto veramente bene, mi piace anche, è un gioco diverso dagli altri perché vabbè che devi sempre stare via a schiacciare, però è, è bello, è fatto molto bene, però vorrei che magari fosse tipo un gioco che quando lo spegni, devi ricominciare da capo, io questo non lo so, però non, cioè proprio non saprei, allora io, allora aspetta, mi fermo qua perché è già parecchio lungo di su, quindi io mi fermo, allora adesso io mi fermo qua, allora io adesso qua, aspetta, c'è le statistiche, qua ci sono le varie cose, non c'è qua, limite, internet, non importa, aspetta, vai, vabbè, allora io salvo qua, allora signori, io spero che questo appuntamento vi sia piaciuto, non battate quello che c'è su qua, spero che l'appuntamento vi sia piaciuto, allora iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo video!